Oggi mamma sono rientrata a Firenze, oggi mamma mi ha preparato la colazione cinese per colazione dato che non ho fatto un tempo a mangiare me lo so portato dietro, fighissimo, la piadina e il pouce, immagino vegetariano perché mamma mi compra solo vegetariano e il tofu salato dovrebbe essere le nuvole di tofu se non sbaglio bene, buona mangiata a tutti